Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona è dedicata al Collasso Italia oggi parleremo rapidamente di dove ve la potete ficcare sia la funzione di produzione Cab Douglas quanto le legioni di immigrati che sono deportati in Italia andiamo con ordine per chi non lo sapesse la funzione di produzione è un pezzo teorico di ogni modello di macroeconomia la funzione di produzione più nota alla Cab Douglas è una funzione da R quadro ad R che combina lavoro e capitale attenzione, il capitale è quello che contiene i brevetti in macroeconomia e quindi in modo implicito le innovazioni di prodotto e di processo quindi la funzione di produzione data la combinazione delle due variabili lavoro e capitale la funzione appunto restituisce il livello di produzione solitamente espresso in termini reali un aggregato numerico, scevolo da inflazione che monetizza in termini reali il mix di beni e servizi prodotti nel paese esistono trade off tra lavoro ossia forza lavoro impiegata in slot di unità di lavoro con capitale ossia brevetti e meccanizzazione robotizzazione quindi solitamente al crescere del capitale nella riduzione di slot di lavoro nelle funzioni di produzione si sale in curve di livello più elevate banalmente aumenta diciamo il livello di produzione totale e che appunto un macchinario per dirla in modo semplice e banale produce di più in unità di tempo ecco ma tale concetto appunto che il macchinario più produttivo può essere stesso anche alla robotizzazione all'intelligenza artificiale vi invito se non l'avete fatto a fruire il podcast Collasso Italia un paese senza produttività e senza futuro che rifiuta le innovazioni di prodotto e di processi in alcune funzioni di produzione se si introduce un saggio marginale di sostituzione più favorevole al lavoro ossia tenere processi di produzione obsoleti con maggiore presenza di slot di ore di lavoro umano invece che ridurre gli slot di lavoro umano con il capitale ossia con innovazioni di prodotti di processo di pari livello che determinano quindi una combinazione diciamo di capitale maggiore se si introducono le innovazioni di processo se invece si preferisce un saggio marginale di sostituzione più favorevole al lavoro il fattore capitale si riduce e aumentano i slot di lavoro ecco in alcune funzioni di produzione si hanno curve di livello con trade off espliciti tra capitale e lavoro altre funzioni di produzione all'introduzione di maggiore unità di lavoro creano minore produzione altre addirittura invece più produzione ecco questo dipende ovviamente da come si costruisce la funzione di produzione che stima il livello eterogeneo di beni e servizi che sono creati in un sistema economico la funzione di produzione è una ideologia lo ripeto la funzione di produzione è una ideologia a livello di sistema economico infatti nella sua costruzione si tiene presente che poiché le macchine robot non consumano nulla tranne la forza motrice introducendo una crescente dose di unità di lavoro in un sistema economico si hanno maggiori redditi e quindi maggiori consumi aggregati dei consumatori e se non si bastonano i consumatori con alte imposte indirette e con alte cune fiscali comprimendo il loro reddito disponibile inevitabilmente poi si ha la possibilità di comprimere quindi tramite maggiori imposte indirette e compressione del reddito disponibile sia in modo di appunto comprimere le importazioni di beni e servizi stranieri che di per sé possono diventare anche un problema serio con il tema a differenza delle esportazioni che sono sempre un elemento positivo per il sistema economico questa è l'immarcio di questo pensiero economico dentro la funzione di produzione cab douglas appunto che è una ideologia ecco i keynesiani hanno la testa a marcia ce l'hanno sempre avuta dopo il 1945 la testa sbiellata i keynesiani perché per i keynesiani non esiste il lungo periodo il lungo periodo non va considerato perché è il lungo periodo siamo tutti morti quello che conta per i cervelli sbiellati dei keynesiani è il brave periodo è ovvio che ignorare il lungo periodo il lungo periodo anche se non è noto e non è scritto è ovviamente ignorare il futuro un pensiero marcio marcio sino al midollo tanto quanto è marcio il pensiero appunto di ritenere che possa esistere una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finiche ecco quest'ultimo pensiero marcio è condiviso anche dai monetaristi poiché il lungo periodo per i keynesiani è irrilevante e poiché i keynesiani e monetaristi tutti pensano che esista una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite come dire nel caso specifico dell'Italia che per prevedere il futuro si possono usare i modelli econometrici collocando l'Italia nell'iperuraneo nell'iperuraneo non esistono guerre nell'iperuraneo non esistono danni da accamamento climatico nell'iperuraneo non esiste la scarcità nell'iperuraneo non esistono shock di materie prime nell'iperuraneo non esistono shock da semi lavorati energia e cibo o d'acqua potabile e quant'altro perché nell'iperuraneo la tecnologia con innovazioni provvederà a garantire nel lungo periodo curve di offerta dei fattori della produzione ad elasticità infinita ecco quest'ultima assunzione dell'iperuraneo con elasticità infinita nelle curve di offerta garantita dall'uso della tecnica e della tecnologia è letteralmente un pensiero magico nella scienza perché l'elasticità infinita implica la inesistenza di limiti in macroeconomia mentre in economia aziendale tutto il mondo è pieno di limiti ci sono limiti fisici, limiti tecnologici limiti giuridico-legali limiti politici, limiti militari limiti demografici limiti in tutte le dimensioni pestle addirittura addirittura limiti etici e limiti morali è ovvio che i keynesiani e i monetaristi siano dei pazzi scappati dai manicomi che diliravano di assenza di limiti economici con le loro assunzioni a margine dei modelli perché durante la guerra fredda si doveva dire che l'economia di mercato era superiore all'economia collettivista questo delirio da manicomio macroeconomico è potuto andare avanti nutrito dai carburanti fossili dalla rivoluzione industriale sinché il processo di cambiamento climatico che la sovra popolazione non hanno iniziato a creare infatti importanti già nel 1970 la ricerca limits to grow sia limiti dello sviluppo identificavano la esistenza di limiti ma la cosa più aspramente criticata e rigettata per ragioni di guerra fredda e quindi si potè continuare a raccontare la balla che l'Italia fosse collocata nell'iperurani pensare a un marcio macroeconomico specie quello keynesiano nega l'esistenza del lungo periodo e quindi della sua importanza i keynesiani proprio abborrono il lungo periodo per cui i keynesiani mescolati con i cattocomunisti hanno finito per partorire ricette macroeconomiche che si sono trasformate in ideologie ecco le ideologie per loro natura stessa sono parola di satana fanno morti e distruzioni e di la strategia della rigenerazione di Soros ammazzare malati e vecchi italiani per sostituirli etnicamente con giovani immigrati a guidare gli ussoli e nel frattempo causare con un'epidemia una ristrutturazione del capitale in Italia a causa delle chiusure fanno andando a sterminare tutte le piccole aziende invece che farle evolvere semplicemente sterminandole per chiusure ecco la strategia di rigenerazione di Soros non è poi così tanto diversa dai deliri sulla razza di Hitler con l'idea nazista della appunto applicazione della Shoah la selezione e la morte scientifica per ebrei, zingari, gay, intellettuali, oppositori politici tracantando poi gente biaccona con i capelli gialli e gli occhi azzurri e la mascella volitiva nei posti dove viveva della gente pacifica ed inero ora, il processo di collasso non è una profezia autoavverante che va contrastato con messaggi ottimistici oppure ignorando i problemi anche se i mass media non ne parlassero appunto non ne parlassero più tentando di far sparire i problemi la cosa non servirebbe ad una scippa di cazzo perché il processo del collasso è alimentato da mutabili e variabili reali incontrollabili la termodinamica e la sovrappopolazione oltre al fatto che l'Italia ha 3.000 miliardi di debito pregresso perché i politici ladri stupidi e Chiesa Cattolica non hanno mai voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo andiamo a vedere le prime note del periodo del collasso che causa cali di resa agricole, cali di produttività, cali di quid andando a sbirciare quello che è successo ad esempio in Emilia Romagna ecco, nulla vieta che americani tipo F1, F2 o magari in futuro, chissà, anche F3 possono arrivare 4 volte l'anno o più vi invito a fruire la playlist www.climatechangeworlds.tk il podcast danni ed effetti in particolar modo dà cambiamento climatico ora, il calo dei ingredienti termici in alta quota fa rallentare i jet stream questo causa la sosta di aree cicloniche ed anticicloniche più a lungo in ampie aree quando le aree cicloniche ed anticicloniche collidono poi si causano eventi metro estremi a causa dell'alta energia presente in atmosfera nei nutri di Castori non c'entrano un cazzo c'entra invece la riduzione dei ingredienti termici in alta quota che è causata dal cambiamento climatico ecco, questa cosa non la si può combattere togliendo le auto a combustione dall'Europa dato che nel resto del mondo specie nei paesi del secondo e terzo mondo nessuno ha intenzione di mollare i motori endotermici l'importazione massiccia in Italia di legioni di immigrati non fa eclissare magicamente i danni da cambiamento climatico questo penso che anche gli scemi lo abbiano capito l'importazione massiccia in Italia di legioni di immigrati non sostiene, diciamo, la produttività perché nessuno degli immigrati ha portato un fottuto brevetto l'importazione massiccia di legioni di immigrati non crea PIL perché il PIL non è indipendente dalle minacce di XXI secolo ecco quindi dove ve la potete ficcare sia la funzione di produzione Cap Douglas quanto la legione di immigrati che sono deportati in Italia non c'è andiamo a vedere un altro evento eclatante l'alluvione in Libia 2023 indubbiamente non sarà tutto negativo forse una parte dell'acqua caduta probabilmente riuscirà a permeare in qualche percentuale nelle falde acquifere libiche ma è indubbio che questo evento meteorologico che ha colpito casualmente la Libia poteva o avrebbe potuto colpire anche l'Italia del Sud così come pochi mesi prima il Nord è stato colpito da eventi meteo estremi ecco quindi dove ve la potete ficcare sia la funzione di produzione Cab Douglas quanto le legioni di immigrati che sono deportati in Italia una calamità di proporzioni epiche sono le parole usate per descrivere le conseguenze dell'uregano Daniel che ha colpito l'est della Libia e la città portuone di Derna in Cirenaica dove due dighi sono crollate nello scorso fine settimana le squadre di soccorso hanno scoperto migliaia di corpi tra le macerie e si teme che il bilancio possa aumentare vertiginosamente con 10.000 persone ancora disperse si ritiene che nella sola terra ci siano oltre 6.000 vittime in pieni quartieri sono stati spazzati via e molti corpi sono stati trascinati in mare ora esiste il rischio di un'epidemia di corpi il rischio di un'epidemia di corpi